Allora, dov'è il senior Wright? Il processo sta per iniziare! Ferma dove sei, Von Karma! Ti aspettava, Fenice! Sono qui per salvare questa innocente donzella dal tuo abuso! Oh, mio eroe! Oggi ancora sfidarmi dopo che uccisi il tuo assistente senza il minimo sforzo! Non permetterti nemmeno di pronunciare il suo nome! Assalto della legge! Stolto, non ti ricordi della mia frustata Tater! E1! Anche per te, Fenice, sembra essere giunta l'ora, finalmente. E' tempo di mieter la tua anima. Obiezione! Non sono morto, quindi sono vivo! Ok. La Fenice sta risorgendo dalle ceneri! Sono risorto dalle ceneri! Come hai potuto risorgere dalle ceneri? E ora, arrestatela! Che tu sia maledetto, Fenice! Che tu sia benedetto, Fenice! Ma qualcuno mi sa dire dov'è il signor Wright? Nick! Ehi Nick, svegliati! Nick! Nick, il processo, Nick! Presidente, ci sono! Oggi discuteremo del caso di... Eh? Cosa? Vostro onore, andiamo avanti! F***ing francesca! Oh, scusate, mi sono appena accorto che l'imputato si chiama... Billy Bob Jones! E allora? Beh, l'imputato non è meglio noto come Maximilion Galactica? Sì, vostro onore, è il suo nome d'arte! Sa, mia nipote è una sua grandissima ammiratrice! Eh, anch'io! Penso che nessuno obietterà se chiamiamo l'imputato Maximilion Galactica! Può firmarmi il martello, è per mia nipote! Ma è un martello? Non si faccia domande! Sono il giudice! Sembra più cordiale! Che questo sia un punto a nostro favore? Procuratore Von Karma, la sua dichiarazione d'apertura, prego! Questa volta non hai alcuna speranza di vincere, Herr Phoenix Wright! Eh? Quel caso sull'evocazione degli spiriti era una farsa! Assolutamente illegittimo! Sto parlando per te, Francisca? O stanno parlando quelli che hanno scritto il caso di prima? No vabbè, lei che dice... Non conta nulla! Mi hai capito bene? Quanti altri non ne farei contare per il tuo perfect score, cosa vuoi poi? Credo che ce l'abbia ancora con me da quella volta! Non hai alcuna possibilità! Zero! Zilch! Nada! Non perderò questo caso! E lo sai perché? Perché i Von Karma sono nati per vincere! E muoiono per perdere, o qualcosa del genere! Secondo me sono nati per tormentare la gente e fare gli arroganti! Guarda e impara, Herr Phoenix Wright! Vi mostrerò la tua colpevolezza in modo assoluto e incontrovertibile! Io? Colpevole? Ma di cosa stai parlando? Questo sarà il giorno della mia vendetta! Francisca, non sono io colpevole! Credo che suo padre c'entri qualcosa! Ah, ok! Vuole che Phoenix risulti come colpevole perché io ho dimostrato suo padre colpevole nel processo di cui era procuratore! Che non ha alcun senso! Questo prova che Phoenix Wright ha investito con la bicicletta Russell Berry quella notte! O roba del genere! L'accusa ha finito! Ora sbrighiamoci e non perdiamo altro tempo! Può chiamare il suo primo testimone, procuratore! Detective Dick Gamshew, vieni subito qui! Veloce! Schnell! Ok... Gamshew, come previsto! Mi dispiace aver interrotto il tuo lavoro, Detective! So che per te il tempo è denaro! Si figuri! Nessun problema, davvero! Non vedevo l'ora di tornare qui! Molto bene! Puoi iniziare a esporre gli eventi in questione! Ai suoi ordini, signora! Proceda pure con la sua testimonianza, Detective! Ok, Gamshew, i dettagli del delitto! Dovrebbe essere facile! Come riscaldamento, Gamshew! La sera del delitto ha nevicato fino alle 21 e 40! Faceva molto freddo! 21 e 40... Sono uscite alle 22, no? Tutti gli artisti del circo si sono riuniti nel tendone per provare i loro numeri! La sessione di prova è finita intorno alle 22! Il delitto è avvenuto alle 22 e 15 nel piazzale di fronte agli appartamenti! Il corpo della vittima è stato ritrovato accasciato su una cassa di legno! La vittima è morta in seguito a un forte trauma che le ha rotto una vertebra cervicale! Brutale! Capisco! Un singolo colpo mortale con un oggetto contundente! Ecco il referto dell'autopsia! La corte mette il referto agli atti! Un oggetto contundente! Molto bene! Senior Wright può procedere con il suo controinterrogatorio! Grazie vostro onore! Quindi beh, va di suo che il primo oggetto contundente a quei pensi è la cassa! Il su cui si è buttato, però non so come funziona meccanicamente! Ok... La sera del delitto ha nevicato fino a 21.40. Cosa ha da dire sulla meteo, Mr. Gumshoe? Parlando di quella nevicata... C'è stato un forte vento gelido, fino a poco prima del delitto! La neve non si era accumulata a terra? Oh, non era granché! Erano caduti più o meno quattro centimetri! La neve si è poi gelata ed è rimasta a terra fino al giorno successivo! Hmm... La neve... Questa storia non mi convince molto! La... Qualcosa sulla neve non lo convince? Ah... Foto del crimine... Ah... Il fatto che sembra fresca e non gelata? Non mi viene in mente molto altro? Boh... Ok, lo terrò in mente! Ah? Cosa c'è, Nick? Meglio dare un'occhiata al registro processuale! Detective Gumshoe! Come sta... Cosa stavano facendo gli artisti del circo quella sera? Tutti gli artisti si sono riuniti nel tendore per provare... Fino alle 10... Fino alle 22... Tutti gli artisti del circo? A chi si riferisce esattamente? Tutti, a parte i ballerini e il personale tecnico! Regina, la domatrice, mo il clown, ben il ventriloquo! E ovviamente l'imputato Maximilion Galactica insieme alla vittima, il direttore! Ne sono menzione di Acro! E... Gli altri sì, li ho menzionati tutti, penso! Oh, dimenticavo! Ah, la tigre! Oh, dimenticavo! C'era anche Regent, la tigre di Regina! Quindi, mancano all'appello Acro, Moni e l'elefante! È una combutta fra loro tre! Per curiosità, cosa mi sa dire sulla scimmia del circo? Ieri mi ha rubato l'orologio da polso... Quindi, cos'era l'orologio di Ife? Ma qualità era quello di Gamshew? Ho preso da un V con Prime un giorno di pioggia! Mi ha rubato l'orologio da polso durante le indagini! Detective, lo invito a denunciare il furto dopo la fine dell'udienza! La sessione di prove è finita intorno alle 22, ok? Questa è un'informazione costante! E poi dove sono andati tutti gli artisti dopo le prove? Regina è rimasta a giocare con Regent mentre Mo si è diretto nella sua stanza! Mi sembra che Mo ha visto dalla sua stanza il delitto! Bene, il ventriloquo è andato al piazzale principale e assorto nei suoi pensieri! Infine, il direttore ha chiamato Max nel suo ufficio per discutere in privato! Per discutere in privato? Sono molto sospetto! Hai idea di cosa avessero parlato in ufficio? Pare che dovessero discutere dello stipendio di Max! In realtà, Max ha chiesto al direttore la mano di sua figlia Regina! Aspetta! Mi sta bene che ha chiesto la mano della figlia, ma... Non avevamo discusso con Max del fatto che era stato chiamato per via dalla collotazione con Ben? Ah no, forse è che tramite quello siamo risal... Ok, ok, tutto chiaro! Il delitto è avvenuto alle 22 e 15! 15 minuti dopo... Piazzale davanti agli appartamenti! Può essere più preciso riguardo agli eventi accaduti intorno alle 22 e 15? Ehm... Ok, nessun problema, amico! Abbiamo un testimone che ci ha raccontato come sono andate le... Questo è irrilevante! Procediamo! Ehm... Va bene, ci occuperemo più tardi di questo testimone! Quindi Mo o Trillo, immagino? Detective Gumshoe può dirci come è stata uccisa la vittima? Ehm... Il corpo della vittima è stato ritrovato accasciato su una cassa di legno! Una! Una cassa di legno! Esatto! Credo che la vittima stesse trasportando quella cassa quando è stata uccisa! Oppure la cassa è l'oggetto contundente perché per... Uccidere sul colpo... Ce ne vuole abbastanza! Soprattutto per rompergli la vertebra! Ehm... Stava trasportando una cassa di legno? Era una cassa di legno particolare, vostro onore! In che senso? Beh, era molto più pesante di quanto sembrasse a prima vista ed era chiusa a chiave! CHIUSA A CHIAVE! Ok... Forse dovrei fare qualche altra domanda finché sono in tempo... Oh... Sulla cassa di legno... Ehm... Quindi... A meno che... Quindi a meno che non è l'arma del delitto ed è... E proviene da altre parti... E effettivamente Russell la stava portando, si può... Presumere che era il motivo per cui era uscito, era andato a prendere la scatola... Vabbè... La scientifica ha dovuto usare le maniere forti per scoprirne il contenuto! Dentro c'era solo questa bottiglietta! Ok... Una bottiglia? Cosa sarebbe, Detective? Niente di straordinario, vostro onore! Una banale e comunissima bottiglietta! Nulla è mai banale, quando è in una finestrella con lo sfondo grigio! E cosa contiene? È piena di... Pepe! Pepe? E perché era chiusa in quella specie di cassaforte? Pepe... Nella cassa di legno c'era solo quella piccola bottiglia? Che abbia qualche significato particolare! Ok... La vittima è morta in seguito a una forte trauma che le ha rotto una vertebra cervicale. Prima... Voglio guardare la cassa... Ha questa cassa di 10 kg, lo specificano, quindi è importante. Chiusa con una piccola chiave. Trovata nella cassa di legno su cui era accasciata la vittima, contiene del pepe. Ehm... Ehm... Penso che magari... Tornerò indietro qua... Ehm... Mi spiace se è obsoleto, ma voglio chiedergli tutti le possibili informazioni sulla cassa di legno. La serratura. Piccola chiave. Ha detto che la cassa era chiusa. Come esattamente? Beh... Abbiamo sudato sette camicie per aprire quella serratura. Un osso duro. Quindi la cassa era chiusa quando è stata ritrovata? Esattamente. Finché i ragazzi della scientifica non l'hanno aperta con la forza. Capisco. Continui, Detective Gamshew. Ok, era chiusa. E... Sulla cassa di legno in sé. Questa cassa di legno dovrebbe pesare più o meno dieci chili, giusto? Direi di sì. È stata interamente ricoperta con delle lastre d'acciaio. Ah, ci credo, ok. Quindi ha senso che pesa così tanto anche se è vuota. Lastre d'acciaio? E per quale motivo? Hm... Non è Superman perché lui è il piombo che non vede attraverso. Forse però... Non ho visto cosa stava dicendo, ma... Le tue opinioni personali non ci interessano, Detective. Attieniti a quel poco che sai con certezza. S-scusi. Questa cassa è molto pesante, è tutto qui. Così va meglio. Ora puoi continuare, Detective. Hm... È perché ha fretta o perché sta nascondendo roba? Chi lo sa. Ehm... La vittima è morta in seguito a un forte trauma che le ha rotto una vertebra cervicale. Quindi non è semplicemente tipo un colpo carata al collo. In base all'autopsia possiamo dire che l'arma del delitto è un oggetto contundente, vero? Oh shit, l'autopsia. Non l'ho guardata. Ehm... Ora del cesso casa forte trauma alla nuca. Ok. Pensavo ci fosse di più, ok. Ehm... Possiamo dire che l'arma del delitto è un oggetto contundente, vero? Proprio così, amico. Una scimbia conterebbe come oggetto contundente. Eh... E quest'arma non è stata ancora trovata? La polizia la sta cercando proprio in questo momento. Qualunque sia l'arma del delitto, penso che l'assassino se la sia tenuta. Potrebbe essere, soprattutto perché non l'avete trovata sul luogo del delitto. Eh... Oppure potrebbe averla fatta sparire magicamente. Shut up, Gamshu, please. Bene, ora ci siamo fatti un'idea più precisa sulle circostanze del delitto. Credo che Gamshu abbia esaurito la sua parte in questo caso. Fantastico! Tutta questa fatica per una banalissima bottiglietta di pepe. Ora che abbiamo concluso con il detective, vorrei chiamare il mio prossimo testimone. Ok, chi è il prossimo? Spero non trilo perché ho già la voce distrutta, Gamshu. Eh, mi lasci almeno il tempo di scendere dal banco! Non è colpa mia se sei lento e incapace di capire quando è il momento di andartene. Beh, almeno non mi ha sollecitato ad andarmene a forza di frustate. Spostati, Gamshu, lo sta per fare. Grazie per il contributo, detective Gamshu. Può andare. Ok, procuratore Foncarma, convochi pure il suo prossimo testimone. Chiamo ad eporre Herr Benjamin Woodman. Deve essere Ben, il ventrilo qua. Oh, God. Ok. Chissà se ci sarà anche trilo a testimoniare. Se non c'è trilo, il processo durerà sei giorni. Ok, eccolo lì. Testimone, dichiara nome e professione. Cercherò di ritornare alla voce che gli ho dato inizialmente. Che magari è meno divertente, ma almeno non sembra Bowser. Mi chiamo Triloquist. Sono un tenore. Mi scusi? Il testimone chiamato ad eporre dovrebbe essere il ventrilo qua, Benjamin Woodman. Quella toga deve bloccarti la circolazione. Ho detto che sono un tenore. Forse non mi credi? Benissimo, ti darò una dimostrazione. Il mondo della legge strabiliante e travolgente, colpevole o innocente. Lo decide sempre un giudice vestito da zitella. Allora, che ne pensi? Vestito da zitella? Perché? Il ritmo non era male? Ma il testo lasciava molto a desiderare, diciamo così. Trilo, non puoi insultare il giudice. Oh, ci ho abituato. Taci tu! Guarda che naso ti ritrovi piuttosto. Fossi in te vi farei una plastica. Sei solo invidioso perché non hai un naso. È così brutto che vorrei usarlo come sacco da box. Con quel naso non potrei mai diventare una star di prima grandezza. Le celebrità dicono sempre tutto quello che gli passa per la testa? Già, a volte diventano presidenti per quello. Ma cos'è questa confusione? Ordine, ordine! Voglio sapere chi è il testimone! Non... Non badi a me, signor giudice. Ci penserà Trilo a testimoniare al posto mio. Faccio come vuole. Basta che sentiamo questo bened... Non osare mettere in dubbio la serietà dei miei testimoni. E ora, procediamo. Non sarò mai un fan dell'immunità diplomatica, chiamiamola così. Immunità giudiziaria di Franziska, ma vabbè. Ok, cosa ha visto il pupazzo? Mamma mia. Cosa ho visto? Ah, grazie per avermi fatto notare che effettivamente Ben muove le labbra quando Trilo parla. Carina come cosa. Ehm... Dopo le prove, me ne ero andato dal tendone con il buffone. Il clown, insomma. Arrivato agli appartamenti. L'ho piantato in asso e sono andato al piazzale. Ok. È stato in quel momento che ho visto Max dirigersi verso il luogo del delitto. Nessun altro era andato da quella parte. Quel demente è sicuramente l'assassino. Poi è arrivata la polizia e il maghetto è stato arrestato. Gli sta bene. Hai visto l'imputato dirigersi verso il luogo del delitto? Ne sei sicuro? Senza dubbio, solo lui indossa un cilindro, un mantello e delle insulse rose bianche. Un abbigliamento così assurdo è la normalità per quel ciarlatano perditempo. Può bastare. Credo che tutti abbiano capito. Una sola cosa. Ha detto di aver piantato in asso il clown. Esatto, citrullone. Dal momento che non era con lui non potrebbe essere il clown il vero assassino. Hmm, ha ragione. Mo ci aveva detto di aver visto dalla finestra, giusto? Mi dispiace rovinare questa tua bella teoria, ma il clown non può essere l'omicida. E perché? Ecco la prova. Un cilindro di seta? Questo cilindro è stato trovato sul luogo del delitto. Appartiene all'imputato. Senza ombra di dubbio, l'imputato indossava questo cilindro durante le prove. Se il clown fosse l'assassino, il cilindro non avrebbe dovuto essere sul luogo del delitto. Hmm. Bene, procuratore Fonkarma. I miei complimenti. Il suo intuito è davvero senza pari. Plie? Grazie, ma questo lo sapevo già. Herr Phoenix Wright, non hai niente da dire? Ok. Oggi sembra più in forma che mai. Si è fatto jogging, ha fatto tutto. Cosa ho visto? Di Trilo. Bene, io mi fermo qua, gente. Ci sono stati problemi con la registrazione, quindi preferisco fermarmi qua, per sicurezza. La prossima volta analizzeremo quello che ha detto Trilo. Ho già visto forse qualcosina che non mi convince molto, ma sarà di certo interessante. Voi non realizzate quanto sputo quando doppio, Franziska. Lo tipo mettere degli stracci per terra. Grazie e attenzione. Bye. Ciao. Grazie a tutti.